operazione full control portata a termine dalla guardia di finanza nell'ennese due arresti complessivamente 20 indagati a vario titolo per usura estorsione autoriciclaggio trasferimento fraudolento di valori e fatture false supporto e malati oncologici ai familiari iniziativa al via da oggi a caltanissetta il consiglio dei ministri nomina maria teresa cucinotta prefetto di palermo dal 2015 al 2018 ha ricoperto lo stesso incarico a caltanissetta provvidenza processione nel segno della tradizione distribuzione del pane benedetto caltanissetta verso il villaggio di natale iniziativa del comune la guardia di finanza del comando provinciale di enna coordinata dalla locale procura della repubblica ha scoperto un vasto giro di usura riciclaggio e utilizzo di fatture false gestito da due fratelli leonfortesi che approfittando delle difficoltà economiche causate dall'emergenza covid-19 si offrivano di prestare denaro a imprenditori locali in grave crisi di liquidità e questo il contenuto dell'operazione full control condotta dalla fiamme gialle della terenza di nicosia che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei due presunti usurai posti agli arresti domiciliari con il contestuale sequestro preventivo di beni e denaro per circa 400 mila euro emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di enna al termine di un'indagine durata più di un anno sono complessivamente le persone a vario titolo indagate per i delitti di usura estorsione autoriciclaggio trasferimento fraudolento di valori emissioni di fatture false e dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti decisiva è stata la collaborazione fornita dalle vittime degli usurai questi in particolare sarebbero stati soliti erogare prestiti di denaro agli imprenditori in gravi difficoltà economiche aggravato oltremodo dalla crisi pandemica ottenendo in cambio la promessa o la dazione di interessi usurari fino a giungere in alcuni casi a impossessarsi delle loro aziende dalle indagini avviate in seguito alle dichiarazioni rese da alcune delle vittime è infatti emerso che i due arrestati una volta concesso il prestito e obbligata la vittima al pagamento mensile degli interessi sempre superiore al limite massimo fissato dalla legge il cosiddetto tasso soglia dinanzi alle prime difficoltà manifestate degli imprenditori nei versamenti periodici li avrebbero costretti a cedere a titolo di garanzia le proprie quote societarie talvolta in modo occulto altre volte attraverso la loro formale acquisizione accompagnata tuttavia da pagamenti fittizi in altri casi sin dall'origine la concessione del prestito sarebbe stata subordinata all'acquisizione delle quote societarie a titolo di garanzia e alla conseguente pretesa per la restituzione del prestito degli interessi di una parte dei ricavi aziendali in seguito se l'attività o i ricavi delle aziende non si rivelavano sufficienti a garantire il pagamento degli interessi e la restituzione del capitale veniva richiesto alle vittime quale garanzia aggiuntiva il rilascio di cambiali firmate in bianco con l'intento in tal modo di prolungare il più possibile anche con violenza e minacce l'attività usuraria posta in essere dagli arrestati le indagini svolte attraverso accurata analisi bancaria inoltre hanno consentito di ricostruire prestiti concesso a un tasso di interesse che in alcuni casi avrebbe raggiunto il 200 per cento anno il 7 per cento degli italiani ha vissuto il tumore grandi sono i passi avanti fatti in ambito medico e tuttavia è necessario mantenere alta l'attenzione sul tema inquinamento ambientale raggi salari agenti infettivi alimentazione vita sedentaria cattive abitudini eccessi insieme al patrimonio genetico sono tutti i fattori che possono incidere sul rischio tumore e quando la malattia accertata diventa necessario anche intraprendere percorsi per il ritorno alla quotidianità attraverso la riabilitazione integrata oncologica è un servizio che si vuole dare agli ammalati affetti da tale patologia per ristabilire riequilibrare il proprio assetto fisico psichico emotivo relazionale perché ovviamente si guarda non soltanto alla malattia ma si guarda la persona nella sua globalità quindi ci sono tutta una serie di attività che sono abbastanza prelegate che vanno dall'attività fisica all'attività psicologica ai incontri di yoga e incontri con la psicologa incontri di estetica passeggiate di gruppo il cui obiettivo è quello di come dire fare tornare alla normalità delle problematiche e con l'aiuto di tutti perché l'incontrarsi significa aprirsi anche sociale avere anche un aiuto reciproco in via salvati sin da oggi i primi appuntamenti che in sei mesi con incontri di vario tipo supporteranno sia i malati oncologici che i loro familiari l'onconauta è quella persona che fa una introspezione che riequilibra il proprio assetto alla luce dell'esperienza che ha il tumore per gli strepitosi risultati ottenuti dalle terapie e per il notevole vantaggio data dalla prevenzione hanno consentito di ampliare enormemente l'aspettativa di vita dei malati oncologici per cui diciamo molto spesso noi guardiamo e ci soffermiamo soltanto agli aspetti fisici però dobbiamo guardare non il malato e non solo il malato dobbiamo guardare alla malattia per entrambe le problematiche malattia e malato quindi avere anche un attenzione per quanto riguarda tutti quegli aspetti ripeto emotivi psicologici relazionali professionali lavorativi che una persona ha nel corso del 2020 l'incidenza di questa malattia in italia è stata stimata pari a 377 mila nuovi casi secondo quanto riportato dall'associazione italiana di oncologia medica prevenzione da un lato e riabilitazione integrata dall'altro possono fare la differenza il consiglio dei ministri ha nominato maria teresa cucinotta prefetto di palermo subentra a giuseppe forlani andato in pensione che era arrivato il 22 maggio del 2020 in piena pandemia e aveva coordinato tutti gli interventi per limitare la diffusione del covid per maria teresa cucinotta e un ritorno a palermo dove è nata 63 anni fa e si è laureata come ultimo incarico è stata prefetto di catanzaro dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza e l'abilitazione alla professione forense nel 1985 è risultata vincitrice del concorso per cancelliere presso la corte d'appello di milano dal 1985 ha prestato servizio per tre anni presso la prefettura di messina dove si è occupata del contenzioso invali di civili dal 1988 fino al 2007 invece ha prestato servizio presso la prefettura di palermo mentre dal 2015 al 2018 maria teresa cucinotta è stata anche prefetto di caltanissetta la pioggia ha lasciato che la processione in onore di santa maria della provvidenza nel tardo pomeriggio di lunedì 21 novembre si svolgesse fino alla fine una timida pioggiorella assegnato il termine dei festeggiamenti iniziati il 12 novembre cominciando a cadere proprio davanti il sagrato della chiesa di san giuseppe quando il parroco don angelo spilla rivolgeva le ultime parole presenti prima della benedizione finale ringraziamo il signore perché ci ha dato di vivere di sperimentare questi giorni sia di preparazione in onore ai festeggiamenti della madonna sia in questa stessa giornata abbiamo potuto sperimentare come tanti fedeli provenienti dalle varie parti della città si uniscono al coro di quei i nostri genitori di tutte quelle generazioni che ci hanno precedute che hanno venerato maria santissima con questo bellissimo titolo madonna della provvidenza una devozione che per la nostra città di caltanissetta risale fine dal 1600 quando fu costruita la prima chiesetta dove adesso c'è l'attuale vogliamo pregare e chiedere alla vergine santissima che benedica le nostre famiglie che non ci faccia mancare il signore il pane quotidiano e il pane spirituale penso ai tanti giovani particolarmente perché mediante anche la nostra testimonianza possano sentire questo affetto questa premura questa intercessione della mamma geleste che tutti quanti ci guida e ci assiste la processione che ha visto la presenza anche di una rappresentanza della real mestranza delle sore francescane del signore della città e di numerosi devoti è stata preceduta dalla celebrazione eucaristica preseduta dal vescovo della diocesi nissena così come avvenuto al termine delle altre messe della giornata è stato distribuito il pane benedetto offerto dai panificatori è stato distribuito sia il pane benedetto come anche il grano già dall'inizio di queste devozioni a cui facevo riferimento venivano portati dei pani addirittura portavano anche delle pentole con delle pietanze che venivano distribuite ai carcerati e il pane ai poveri mentre i contadini portavano del grano veniva benedetto in uno dei mercoledì che precedeva la novena della provvidenza e dopo la benedizione questo grano i contadini lo riportavano nelle loro campagne lo seminavano e il cui raccolto poi parte di questo veniva devoluto per incrementare il culto della vergine santissima le preghiere dei fedeli brani suonati dalla banda musicale le melodie natalizie della zampogna insieme ai tamburelli hanno inondato le strade del centro storico e accompagnato il corteo partito da piazza san giuseppe attraversando corso umberto piazza garibaldi passando davanti la cattedrale per poi dirigersi verso via palermo corso vittorio emanuele e via 20 settembre prima del rientro in parrocchia è stato anche intonato un canto proprio in direzione della chiesa della provvidenza ci siamo tutti quanti commossi abbiamo voluto proprio sostare all'inizio della via della provvidenza guardando sullo sfondo la facciata della chiesa che ha l'originale di questa copia del pollaci questa copia che abbiamo portato e vogliamo proprio chiedere al signore perché al più presto ci possano essere delle sovvenzioni pare che ci siano perché si proceda per i lavori di restauro particolarmente interni e ridare il suo giusto splendore onore per poter celebrare i sacramenti e onorare la vergine santissima nella sua casa dall'8 di dicembre giorno dell'immacolata concezione anche caltanissetta si vestirà tema natalizio con le luminarie e l'accensione dell'albero di natale a tutto questo si aggiungerà il villaggio di natale infatti dall'8 dicembre sino all'8 di gennaio in piazza garibaldi ci saranno le casette dove saranno esposti prodotti artigianali agroalimentari e non solo il villaggio di natale si pone come obiettivo alla promozione delle eccellenze locali e siciliane del buon cibo delle arti e delle tradizioni coinvolgendo aziende di produzione commercializzazione e associazioni il villaggio sarà costituito da 15 casette di legno e si svolgeranno nei fine settimana dell'8 9 10 e 11 dicembre 22 23 24 dicembre 29 30 e 31 dicembre e 6 7 e 8 gennaio oltre agli operatori economici di prodotti artigianali e agroalimentari saranno presente obbisti e produttori di oggettistica locale e operatori economici di prodotti floreali per partecipare alla manifestazione si dovrà pervenire la domanda entro non oltre le ore 10 del 28 novembre al sito del comune di caltanissetta dove si potrà compilare il modulo di iscrizione per avere la casetta a titolo gratuito sarà un villaggio di natale rivolti a quanti hanno voglia di poter esporre i propri prodotti sia nel campo gastronomico che nel campo dell'artigianato ovviamente non ci saranno dei prodotti industriali infatti l'avviso parla chiaro a tra proposito vi invito a visionare il sito del comune proprio per poter aderire alla richiesta dell'utilizzo delle casette che ricordo sono assolutamente messe a disposizione e quindi gratuitamente sarà un villaggio che prenderà inizio l'otto dicembre con l'accensione dell'albero di natale quindi delle luci dell'albero di natale e quindi arricchito anche quest'anno dalla presenza del villaggio il villaggio che sarà aperto tutti i fine settimana a partire appunto dall'otto dicembre fino al 8 di gennaio durante i fine settimana si alterneranno anche una serie di eventi rivolti ai bambini perché anche quest'anno sarà un natale speciale un natale che verrà rivolto per emozionare i nostri bambini. Nell'elenco dei comuni che hanno ottenuto la qualifica di città che legge per il biennio 2022-2023 c'è anche quello nisseno ben 718 i comuni che si sono qualificati avendo i requisiti necessari e che hanno presentato la candidatura a seguito dell'avviso pubblico di giugno. Il centro per il libro e la lettura di intesa con Lanci intende promuovere e valorizzare con la qualifica di città che legge si precisava nell'avviso le amministrazioni comunali che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio e poi ancora attraverso la qualifica di città che legge si intende riconoscere e sostenere la crescita socioculturale delle comunità urbane attraverso la diffusione si legge della lettura come valore riconosciuto e condiviso in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. Ancora una volta quindi il capologo Nisseno ottiene questa qualifica. Caltanissetta ha in questi giorni ottenuto la qualifica di città che legge ma di che cosa si tratta? Si tratta di un riconoscimento che conferisce il CEPEL a tutti i comuni italiani che hanno stipulato con i cittadini, con le associazioni, con tutti coloro che sono interessati alla promozione della lettura un cosiddetto patto per la lettura. Quindi è un bellissimo riconoscimento per la nostra città perché avremo la possibilità di partecipare a tutti i bandi del CEPEL che sono appunto riservati alle città che hanno questa qualifica ma soprattutto è un bellissimo punto di partenza per programmare attività di promozione della lettura sempre all'insegna, della inclusione e della massima diffusione dell'amore per quello che un libro può trasmetterci. La questione stadio Marco Tomaselli sembra essere titoli di coda. Nei prossimi giorni si attendono le ultime notifiche e le ultime firme per aprire finalmente lo stadio e dare una casa alle società che possono praticare le loro attività sportive. Ne abbiamo parlato con l'assessore Marcello Franciamone. I lavori sono ormai all'atto conclusivo. Voglio ricordare che questo lavoro è stato interamente finanziato dal Sport e Salute per un importo complessivo iniziale di circa 960 mila euro. I lavori sono stati realizzati dall'impresa Fratelli Anastasi che si aggiudicò l'appalto con un ribasso del circa il 22 per cento per cui i lavori strettamente legati appunto a questo appalto sono costati in totale circa 659 mila euro. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì. Che attenzione rischia di essere davvero una giornataccia in Italia per coppia di questa intensa perturbazione associata a un profondo centro di bassa pressione che attraverserà un po' tutto il nostro paese. Controlliamo la nuvolosità prevista sull'Italia e si vede proprio questa perturbazione che proprio tocca l'Italia da nord a sud, parte dalle regioni stedentronali, coinvolge subito anche il centro Italia e man mano raggiunge anche il sud. Precipitazioni particolarmente intense e insistenti sul versante tirenico ma un po' dappertutto converrà a tenere l'ombrella portata di mano solo all'estremo nord-ovest attesa un'attenuazione dei fenomeni sin dalle prime ore del giorno. Quindi in definitiva ci attende un martedì delicato sull'Italia, ripeto con piogge diffuse, anche venti forti soprattutto sul versante tirenico, sulle isole maggiori ma un po' in tutta Italia si farà sentire appunto anche parecchio vento. Neve sulle Alpi centro-orientali, sull'Apenino centro-settentronale, anche a quote basse, attenzione potremmo arrivare anche a 800 metri di quota. Solo sulle regioni di nord-ovest, come vi accennavo, è atteso un miglioramento a partire già dalla mattinata. Per il resto d'Italia bisognerà aspettare la fine del giorno. Per tutti i dettagli e comunque sulle vostre località, vista la situazione, consultate l'app di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno, Caltanissetta. Servizio diurno, Del Poggio, Viale Luigi Monaco. Servizio notturno, Eufrate, Via Filippo Turati.